Cari pellegrini, è il 2 giugno, festa della Repubblica. Allora sono andato a riprendere un vecchio articolo che scrissi in merito alla monarchia, al valore della monarchia, e a che cosa dice la dottrina sociale della Chiesa, il pensiero sociale cattolico in merito alla monarchia. Leggo questo articolo e ve lo commento brevemente. La dottrina cattolica tradizionale, quindi non contaminata da modernismo e neomodernismo, accetta diverse forme di governo, sempre che non cadano in derive totalitarie. Si tenga presente che anche la democrazia, non intesa in senso classico, bensì come puro democraticismo, cioè pretesa di poter tutto decidere con il criterio del numero, anche cosa è oggettivamente bene e cosa è oggettivamente male, dicevamo anche la democrazia, non intesa in senso classico, cade inevitabilmente nel totalitarismo, come ben affermato da Giovanni Paolo II nell'enciclica Centesimus Annus al punto 46, dove si dice una democrazia senza valori, si converte facilmente in un totalitarismo aperto oppure subdolo, come dimostra la storia. Chiusa citazione. Fatte queste due premesse, veniamo al dunque. Le buone ragioni della monarchia sono ben quattro. La prima la possiamo definire sociale, la seconda antropologica, la terza religiosa e la quarta filosofica. Vediamo un poco di dire qualcosa in merito, singolarmente in merito a queste quattro ragioni. La ragione sociale. Una delle più precise definizioni di monarchia è governo di una famiglia su tante famiglie. Infatti la monarchia altro non è che la centralità politica della famiglia. Qui ovviamente il riferimento è alla concezione tradizionale e vera della società. Secondo questa concezione la società non può avere una dimensione, non può che avere, chiedo scusa, una dimensione comunitaria. Essa non è un insieme di individui ma di famiglie. È una famiglia di famiglie. La concezione individualistica della società è invece un prodotto tipicamente moderno ed è proprio la forma repubblicana ad esprimere chiaramente l'impostazione individualistica, cioè il governo di uno su tanti, di un individuo su tanti individui. Relativamente a questo discorso va detto che la concezione vera della monarchia, o meglio la concezione della monarchia vera, si espresse non a caso nel Medioevo cristiano, che fu un periodo tutto all'insegna della dimensione comunitaria e familiare. Le stesse corporazioni erano strutturate sul modello familiare. In merito alla famiglia bisogna fare un'altra considerazione. A differenza di altre forme di governo, nella monarchia cristiana il re è tenuto, anche se indirettamente, a render conto di come gestisce la propria famiglia, che è parte integrante della sua rappresentatività politica. Il tutto nella convinzione che non si può pretendere di governare uno stato se non si è capaci di saper governare la propria famiglia. Veniamo alla seconda ragione, la ragione antropologica. Diciamo subito che qui il discorso si fa molto più delicato, non solo nel senso che va ben capito, ma anche perché sembrerebbe offrire argomenti un po' troppo sottili. Si tratta però di una questione importante. Governare è qualcosa di impegnativo, è un'arte che è difficile improvvisare. Ebbene, nella monarchia vige il riconoscimento del principio secondo cui, sin da piccoli, bisogna prepararsi a governare. Può sembrare una sciocchezza, ma non lo è. L'arte del governo è anche l'esito di un apprendimento, di una scuola, di un'educazione. San Luigi IX così scrive al figlio che dovrà ereditare il regno. Sentite queste parole di San Luigi IX. Caro figlio, la prima cosa che ti raccomando è che tu metta tutto il tuo cuore nell'amare Dio. Se Dio ti comanda delle avversità, sopportale pazientemente, confessati spesso e scegli i confessori prudenti, mantieni i buoni costumi del regno e combatti quelli cattivi. Vedete come San Luigi IX già istruisce il proprio figlio a dover governare. Veniamo alla terza ragione, ragione che possiamo definire religiosa. Se Dio esiste ed esiste, la realtà è gerarchica e, per logica, tutto deve essere riconducibile alla sovranità di colui che è il re di tutto, il re dei re. Se Dio esiste ed esiste, la realtà non è né repubblicana né democratica, ma inevitabilmente monarchica. Qui c'è da aggiungere una cosa interessante. Prima abbiamo detto che simbolicamente la monarchia rappresenta la centralità politica e sociale della famiglia. Ebbene, il cristianesimo parla di un Dio che è unico ma è anche comunione, in quanto trinitario. Dunque, proprio nel cristianesimo, più di ogni altra religione, che la monarchia, come centralità politica della famiglia, trova il suo fondamento teologico. Possiamo, in un certo qual modo, dire che il cristianesimo è strutturalmente monarchico e che la monarchia è strutturalmente cristiana. E veniamo adesso alla ragione filosofica, l'ultima ragione. La monarchia esprime anche un'altra conformazione, una conformazione alla realtà. Una ragione filosofica legata al realismo filosofico, unico criterio per una corretta speculazione razionale. La dimensione gerarchica, infatti, è nell'ordine naturale delle cose, tant'è che anche negli ambienti che ne teorizzano l'illegittimità e l'innaturalità, questa, cacciata dalla porta, cioè la dimensione gerarchica, cacciata dalla porta, rientri in un certo qual modo dalla finestra. Provare per credere. Fin anche negli ambienti anarchici, il leader finisce sempre con l'emergere e col guidare tutti. È nella natura delle cose riconoscere che chi comanda può comandare per sempre, che sui talenti che il Signore dona non c'è data discadenza. Se la politica diventa un bene di consumo, allora sì che esiste il rischio che vada male, ma se la politica è promozione e difesa del bene comune, tradizionalmente metafisicamente inteso, allora non c'è il rischio né che vada male né che possa passare di moda. Bene, cari Pellegrini, chiedo scusa di questo editoriale un po' più lungo, ma mi sembrava opportuno, rioffrire queste considerazioni in merito alla monarchia proprio nel giorno invece in cui si festeggia la cosiddetta Repubblica. Vi saluto caramente e vi ricordo sempre che Dio è verità, bontà e bellezza e aggiungiamo per questa volta anche Dio è il re di tutti i re. Grazie.